A tutti voi buona giornata e ben trovati a questo nuovo appuntamento in diretta. Con a voi la linea. Reddito di cittadinanza scatta oggi la fase 2. L'ora per il patto del lavoro è scoccata con l'avvio delle convocazioni dei beneficiari nei centri per l'impiego. Ricordiamo che in tutta Italia sono oltre 700 mila le persone interessate, circa 11 mila in Friuli, Venezia, Giulia. Per quanto riguarda i navigator, ricordiamo che sono 46 quelli assegnati alla nostra regione. Udine ne ha già contattati, ascoltati diversi. I navigator sono ancora impegnati in una fase di formazione e dovrebbero prendere servizio dalla prossima settimana. Ci facciamo raccontare tutto da Isabella Gregoratto. Mi trovo al centro dell'impiego di Udine in Viale Duodo. Oggi dovrebbero partire le prime convocazioni per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Però in effetti l'ufficio del lavoro di Udine ha già cominciato a convocarli e quindi già tutta l'operazione è iniziata. Ma qual è la situazione? Ne parliamo con Anna D'Angelo che è direttore del servizio interventi per lavoratori e imprese della regione. La situazione oggi com'è per quanto riguarda i beneficiari? Allora in realtà per quanto riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza da oggi per l'accordo che c'è stato a livello nazionale fra Ampal e regioni dovrebbe partire la convocazione ufficiale di tutti quelli che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza per l'attivazione delle politiche attive. In realtà noi li abbiamo convocati anche prima nel momento in cui si presentavano al centro per l'impiego noi li abbiamo sempre trattati. Ecco poi comincia a innestarsi e innescarsi tutto un procedimento una volta che sono convocati qui? Sì, noi fissiamo un colloquio per approfondire le caratteristiche specifiche che hanno dopodiché insieme cerchiamo di definire qual è il percorso ottimale da attivare che può essere la presentazione di alcuni laboratori, delle attività formative per rafforzare le competenze trasversali oppure altre competenze fino ad arrivare poi alla proposta dell'offerta congrua. Questo per quanto riguarda i beneficiari ma mancano ancora i navigator, non sono ancora stati immessi in servizio? No, i navigator adesso stanno completando l'attività formativa che Ampal sta facendo che ha fatto durante tutto il mese di agosto. Probabilmente la prossima settimana noi già li incontreremo e quindi poi definiremo come inserirli nell'ambito dei centri per l'impiego e come renderli attivi. E comunque li avete già conosciuti, avete già avuto modo di incontrarli, quindi sapete già chi sono? Abbiamo avuto solo un primo incontro quando loro si sono incontrati per la prima volta con Ampal quello vero e proprio lo avremo proprio la prossima settimana probabilmente. E qui ritorniamo proprio ai beneficiari. Oggi qui al centro per l'impiego di Udine abbiamo visto tante persone tante persone però non sono qui perché beneficiari del reddito di cittadinanza. Ne parliamo con Emanuela Fracarossi che è responsabile del Lab Centro per l'impiego di Udine e della Bassa Friulana. Quindi abbiamo detto oggi tante persone ma non sono qui per il reddito di cittadinanza. Beh non tutte assolutamente anche perché attualmente Udine lavora su appuntamento. Quindi i beneficiari di reddito di cittadinanza che si sono presentati da noi e noi abbiamo fatto la prima indagine istruttoria vengono poi calendarizzati per un appuntamento. Attualmente noi abbiamo già effettuato una novantina di colloqui. Colloquio significa valutare la persona, verificarne i requisiti, verificare se invece deve essere esonerato dal reddito o dagli obblighi del reddito per così dire o se invece è titolare a tutti gli effetti del reddito. Significa proporre delle azioni di politica attiva, significa proporre per esempio un percorso formativo per una riqualificazione lavorativa piuttosto che invece un percorso di rafforzamento delle proprie capacità individuali. Perché può succedere che le persone siano anche demotivate e magari in condizioni disagiate. Quindi ci sono una serie di attività che... L'età anche di queste persone che si sono presentate? Beh, l'età è l'età media sostanzialmente, quindi fra i 35 e i 50 diciamo. Questa è l'età, lo zoccolo diciamo che noi abbiamo individuato in questi mesi. Ecco, complessivamente quanti ne dovrete seguire? Ma a livello regionale sono circa 3.400 e quelle 70 mi pare. Per Udine, per Udine, le parlo soltanto del CPI di Udine, ci sono circa 1.700 persone che avrebbero diritto al reddito. Ecco, mi ha detto che avete già ascoltato, l'età è quella, quindi adesso li indirizzerete verso un percorso specifico? Verso un percorso specifico e alla fine del quale si spera possano avere le capacità sia personali sia eventualmente professionali e di riacquisita competenza professionale per essere in grado di accettare un'offerta appunto che abbia le caratteristiche della congruità come è previsto dalla legge. Bene, in chiusura, Navigator quindi attesi per quando? Ma penso dalla prossima settimana o quantomeno da metà settembre. Arriveranno 46? 46 sono previsti sul territorio regionale. Bene, ringraziamo D'Angelo, ringraziamo Fra Carossi qui dal centro per l'impiego di Udine e tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie allora Isabella Gregorato per questo collegamento, naturalmente torneremo ad occuparci di reddito di cittadinanza, seguiremo gli sviluppi della situazione, come abbiamo capito bisognerà attendere la prossima settimana perché i 46 Navigator, assegnati al Friuli Venezia Giulia, entrino in attività. Marisa Michelini, unica in Italia, quarta donna del mondo, insegnita della medaglia IUPAP, ICP e il riconoscimento viene attribuito a studiosi che abbiano portato eccezionali contributi nella didattica della fisica a livello internazionale. Marisa Michelini è professoressa ordinaria di didattica e storia della fisica, la consegna del premio è avvenuto lo scorso luglio a Budapest, quindi il riconoscimento l'è stato attribuito per il 2018 per le ricerche in didattica della fisica. Due sono i criteri sui quali si basa l'individuazione degli studiosi destinatari del premio, che i contributi alla didattica della fisica siano prolungati per un considerevole numero di anni e che questi contributi siano di portata e interesse internazionale. Dunque un risultato molto importante per questa docente dell'Università di Udine. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di musica ma insieme anche di arte. 60 spettacoli in oltre 25 comuni del Friuli Venezia Giulia, questo accadrà nella nostra regione in occasione dell'undicesima edizione del Festival Organistico Internazionale Friulano Candotti. La presentazione dell'iniziativa è avvenuta questa mattina a Udine nella sede della Fondazione Friuli. Nell'occasione ovviamente sono stati illustrati tutti i dettagli particolari di questa manifestazione di ampio respiro e di altissimo livello. Alla presentazione dell'evento rappresenta anche il maestro organaro Gustavo Zanin. Ha seguito per noi la presentazione Paola Treppo. Sentiamo. E arriva la sua undicesima edizione, una rassegna di grande interesse per il Friuli Venezia Giulia. Siamo arrivati all'undicesima edizione non senza difficoltà, non senza problemi ma teniamo duro e con tutta la forza che abbiamo andiamo avanti. In Friuli esiste un patrimonio organare e organistico che non ha pari in Italia e forse neanche in Europa. È un patrimonio che è giusto rivalutare, che i nostri antenati, i nostri predecessori hanno voluto tenacemente e quindi è il nostro dovere portare avanti questo tipo di attività. Diversi sono gli spettacoli, i concerti che prenderanno avvio in che giornata? Diciamo che l'avvio ufficiale è domenica 8 settembre presso il Duomo di Tricesimo con l'esecuzione di un concerto da parte di uno dei massimi esponenti per quanto riguarda l'organo mondiali, il maestro Olivier Latry, organista della Cattedrale di Notre Dame de Paris. E poi il festival si svilupperà fino a marzo 2020 in 25 comuni del nostro Friuli per un totale di una sessantina di concerti. E Friuli insomma nel maestro Zani uno degli esponenti più importanti, non solamente a livello Friuli ma a livello diciamo veramente mondiale. Sì, questo è vero. Precisiamo che la mia famiglia ha 200 anni di storia, 7 generazioni e che oggi qui presente c'era un figlio, un nipote, quindi immaginate l'orgoglio. Avendo 200 anni di storia abbiamo avuto anche la possibilità di fare strumenti in tutto il mondo. Parlo di importanti catedrali, ne cito uno per tutte. Pensate che a Strasburgo, la capitale mondiale della musica, dove suonava Mozart c'è un organo Zanin. Pensate che a Vienna, dove era Salieri, che era il concorrente di Mozart, c'è un organo Zanin. Ma poi potrei citare Lisbona, potrei citare Dubrovnik e Belgrado. Insomma ci siamo dati da fare un po'. Lei ha detto che questi investimenti non hanno ritorni di tipo economico ma ritorni di tipo spirituale di nutrimento interiore. Senza dubbio, senza dubbio. Uno dei drammi dell'uomo è la continua ricerca della gioia e continuamente non vuole essere offensivo. Tutte queste feste, queste sagre, queste cose, siamo tutti con ansia alla ricerca. Si vive forse per questo e ciò nonostante, dopo aver fatto anche una bella festa, ti rimane sempre un vuoto, un qualcosa. Se ogni tanto ti fermi e rifletti un po', ammiri l'universo, le stelle, la profondità e senti questi suoni di cui non è una leggenda, ma forse è più di una leggenda, quando gli antichi si mettevano quasi in trance e ascoltavano queste musiche celesti, le rendiamo più immediate se entriamo in una chiesa, in una chiesa gotica, dove le finestre sono istoriate con dei vetri colorati, che anche questi emanano una frequenza. E tu che trovi te stesso, che cerchi quella felicità che non hai trovato, ti senti invaso da questo suono, dal contingente al trascendente. E questo ti porta una tranquillità e una serenità d'animo che non trovi in altre parti. Non ti porta denaro, ma ti porta una gioia e una satisfazione che nessun altro ti potrà dare. Grazie a Beppino delle Vedove abbiamo avuto l'opportunità di organizzare questo primo concorso internazionale per giovani organisti. Questa iniziativa si combina bene con quella che è l'ansia, lasciatemi dire, della fondazione, del poter contribuire a creare opportunità con i giovani. È un concorso che sarà tenuto a battesimo da Olivier Latry, uno dei più grandi organisti del momento. È l'organista storico di Notre Dame, dove tra l'altro l'incendio ha risparmiato miracolosamente l'organo. E credo che questa sia una grande opportunità per tutti di poter avere un confronto internazionale con gli esponenti migliori. Il secondo motivo che ci ha spinto a sostenere questa iniziativa è il grande patrimonio di organi che abbiamo in regione, al quale ha contribuito negli anni, nella propria storia, la fondazione al recupero. Ma con un'iniziativa del genere vorremmo richiamare anche un'ulteriore sensibilità nei confronti di questo patrimonio, che per mantenere intatte le proprie caratteristiche ha bisogno di essere utilizzato, ha bisogno di essere suonato. Ed importante come sempre l'aiuto dell'ingegner Benedetti per il recupero e la valorizzazione dei beni, dei tesori del nostro Friuli Venezia Giulia. Sì, una cosa che è stata fatta per le due motivazioni principalmente che ho espresso prima, ovvero da un lato il concorso dei giovani, che constatare che ci sono giovani impegnati in attività direi sofisticate, che prendono pienamente l'energia e la coscienza di se stessi, è confortante. Se comparato, come accennava il maestro Zanin, a giovani che per trovare o sentire qualcosa si abbandonano alla droga e quant'altro, come sappiamo ai licei stanno raggiungendo dei numeri veramente preoccupanti, si parla del 30-35% con discesa oggi anche alla scuola primaria. Questo da un lato quindi supportare una parte sana che è anche progresso civile, complimentando gli educatori e le persone che accompagnano questi giovani e li motivano. Dall'altra parte erano rimembranze di giovinezza, essendo stato chierico alla parrocchia di San Giorgio Maggiore, normalmente, come dicevo, addetto all'incenso, che consumava in grande quantità perché mi stimolava, e ricordo l'organo, l'organo che era una parte importante delle celebrazioni ed è l'atmosfera che si creava, atmosfera però data dalla famiglia, dai figli, dalla partecipazione. Oggi l'atmosfera nelle chiese normalmente è abbastanza triste, in quanto per lo più sono anziani che stanno acquistando il biglietto per l'aldilà con qualche speranza. I cani sono ancora esclusi dall'entrare in chiesa perché normalmente per le strade purtroppo si vedono più cani che bambini. E questo è un problema sociale che si comincia, inizia a parlare adesso, ma che esiste da 20-30 anni. Vabbè, gli andiamo su un altro tema. Quindi, tornando all'organo in chiesa, questa potenza, questa forza musicale, questa armonia, grande armonia, che fa salire lo spirito, induce lo spirito verso qualcosa di più grande, di divino, di maestoso. Ecco, questo inconsciamente mi è rimasto come simpatia e da qui l'idea di rivivere in qualche modo quei momenti supportando l'iniziativa. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra pochissimo. Di nuovo in diretta, con a voi la linea. C'eravamo lasciati parlando di organi. Riprendiamo il discorso parlando della fisarmonica. La fisarmonica di Leonardo, uno strumento solo abbozzato e pensato dal genio italiano morto 500 anni fa, che è stato riprodotto dal liutaio friuleano Mario Buonoconto. Un esemplare perfettamente funzionante. È in possesso di Denis Biasin nella sua Artist Concert Hall ad Azzano X. Siamo andati a vederlo insieme. Vediamo. Ecco, avete sentito, sono queste le note della fisarmonica di Leonardo. Siamo in compagnia di Denis Biasin all'interno dell'Artist Concert Hall qui ad Azzano X. Beh, ci racconta un po' la storia di questa meraviglia. Meraviglia che, grazie all'incontro fortuito con Mario Buonoconto, ho avuto la possibilità di conoscere la sua maestria nel costruire strumenti antichi. E tra le sue meravigliose creature, le sue meravigliose strumenti nel suo laboratorio a Maiano, aveva, stava facendo una ricerca su uno strumento, su uno schizzo appunto di Leonardo. Ne parlammo perché sapeva della mia passione, della mia ricerca sulla fisarmonica, sull'accordion in generale e mi dice, sai che Leonardo ha pensato di fare uno strumento portativo che assomiglia a una fisarmonica. All'epoca esisteva già l'organo e Leonardo pensò di creare uno strumento con tastiera verticale, non più orizzontale, e i due mantici estremi dell'organo antico, metterli al centro. Ha lasciato poche righe su questo foglio atlantico, sul suo codice atlantico, foglio 76, che l'originale è a Madrid, nel museo. In questo schizzo è riportato sotto quattro righe, dove dice che questo strumento, costruito in legno con delle canne di carta o di legno molto leggero, tastiera verticale, ha questa disposizione di due mantici, che si muovono da destra a sinistra, movimentati ovviamente con la leva sotto ai due mantici, e questo fa sì che l'aria sia sempre continua, cioè produce questo vento, che va su un sommiere e esce dalle canne, e le canne producono i suoni che abbiamo appena sentito. E come abbiamo sentito, non è solo bella da vedere, ma è anche perfettamente funzionante. Lei riesce a fare dei concerti? Beh, questo strumento abbiamo apportato una modifica fin da subito, gli ho detto di inserire questa leva, queste levette, messe su ogni canna, questo ti dà la possibilità di accordarti con gli strumenti moderni, che siamo ovviamente nell'epoca in cui dobbiamo suonare a 440, e lo strumento, avendo questa possibilità di variare l'intonazione solo con l'uso del mantici, per cui riesce a fare anche delle armoniche in base a come schiacci il tasto, per cui quando l'ho provato questo strumento ho pensato che questo era un fantastico strumento anche per la musica moderna, per la musica contemporanea. A 500 anni dalla morte del genio di Leonardo, insomma scopriamo ancora una volta di più la sua genialità, perché di fatto ha anticipato di 300 anni quella che è stata la nascita della fisarmonica, come la conosciamo noi. Sì, del 1826, infatti questa disputa che c'è sempre stata tra Castelfidardo e l'Austria per la nascita dello strumento, quando ho visto che Leonardo aveva fatto questo schizzo che assomigliava a una fisarmonica, ho chiesto a Mario se ne aveva parlato, con persone autorevoli, ricercatori di musica antica, scusa anche della storia della musica, mi ha detto di sì, ma nessuno era a conoscenza di questo strumento. Io, anch'io, mi sono documentato tra i costruttori di Castelfidardo, ma nessuno era a conoscenza. Così l'abbiamo, una volta costruita, abbiamo potuto fare un concerto al Festival Internazionale di Città di Castelfidardo. Castelfidardo è rimasto affascinato dal suono, dal concerto, da questa idea e ne ha adottata una, cioè ne ha acquistata una e l'ha posta al museo Città di Castelfidardo. Ricordiamo che qui ad Azzano X si può venire a vedere questo strumento. Certo, sicuramente, provarlo. Chi è interessato a costruire, a comporre delle musiche, siamo qui a disposizione. Di fatti, ho incaricato Maurilio Cacciatore, che è un compositore di musica contemporanea, a studiare questo strumento e spero, entro l'anno, di poter fare un concerto di musica contemporanea ispirata a Leonardo, con uno strumento del Cinquecento. Allora, questa è un'altra delle sfide di Denis Biasin, che ringraziamo per le spiegazioni e per averci fatto vedere questa, che è veramente una cosa assolutamente straordinaria. Sì, grazie a tutti e buon Leonardo, siamo a 500 anni. È l'anno proprio di Leonardo. Per questo collegamento da Azzano X è tutto, a voi la linea. Grazie allora Daniele Micheluz per questo contributo. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Adesso le previsioni meteo a cura di Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia e poi rimanete sintonizzati su Telefriuli, perché subito dopo di noi c'è l'appuntamento in diretta con il punto di Enzo Cataruzzi. Ecco, lo vedete già pronto con il suo ospite, Cristiano Sciaroli, segretario del Partito Democratico del Friuli, Venezia Giulia. Dunque, a tra pochissimo. Arrivederci. Un fronte freddo si avvicina lentamente alle Alpi e già oggi farà aumentare l'instabilità sul nord Italia, specie dal pomeriggio sera e sulle regioni di nord-est. Martedì affluirà l'area più fresca e secca che segue il fronte. Oggi al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso, ma già nel corso della mattinata sui monti si avranno i primi rovesci locali e qualche temporale più estesi dal pomeriggio, quando potranno interessare anche zone di pianura. Verso sera, peggioramento più diffuso, con pioggia e temporali che interesseranno anche la costa. Possibile qualche temporale forte. Caldo ancora affoso su pianura e costa fino a sera, poi bora sostenuta e fresca. Le temperature minime saranno comprese fra 20 e 22 gradi in pianura e fra 23 e 25 sulla costa. Le massime tra 29 e 32 gradi su pianura e costa. A mille metri ci saranno mediamente 18 gradi e 2000 metri 12 gradi. Domani di primo mattino cielo nuvoloso, ma già in mattinata il tempo migliorerà e in giornata prevarà cielo sereno o poco nuvoloso, bora sostenuta e fresca sulla costa, moderate in pianura. L'area sarà piuttosto secca. Le temperature minime saranno comprese fra 15 e 17 gradi in pianura e fra 17 e 20 sulla costa. Le massime fra 26 e 28 gradi in pianura e fra 24 e 26 sulla costa. A mille metri avremo mediamente 16 gradi e 2000 metri 8 gradi. Mercoledì sereno con bora moderata sulla costa. Le temperature minime saranno comprese fra 15 e 17 gradi in pianura e fra 20 e 22 sulla costa. Le massime fra 26 e 28 gradi in pianura e fra 24 e 26 sulla costa. A mille metri avremo mediamente 14 gradi e 2000 metri 9 gradi. Giovedì invece possibile peggioramento con cielo in genere nuvoloso, piogge sparse e locali temporali. Previsione ancora incerta. Le temperature minime saranno comprese fra 16 e 19 gradi in pianura e fra 19 e 22 sulla costa. Le massime tra 24 e 27 gradi sia su pianura che sulla costa. A mille metri avremo mediamente 15 gradi e 2000 metri 10 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti